Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Riccardo Bottita Siamo tornati con God of War Ragnarok Hanno appena fatto pace Freya con suo fratello Adesso vediamo cosa ci aspetta Intanto qui forse c'è una missione secondaria da avviare E' talmente esausta che ho dimenticato alcune cose insostituibili Cose insostituibili? Beh, una sola in realtà Una sfera Ti sarei davvero grata se tu la trovassi Che c'è? E se dovessi imbatterti in uno dei miei bellissimi pezzi d'armatura arrugginiti Potrei usarli per costruire qualcosa di speciale solo per te Cos'è la sfera? Riportatela e sarò felice come un raggio di sole Una sfera No, e non dimenticarti di cercare la mia vecchia armatura La riparerò gratuitamente Che tipo di sfera pensi che stiamo cercando fratello? Non lo so Boh Comunque ragazzi penso che queste missioni secondarie Sto pensando di farle in live Non so ragazzi Poi vediamo Anche quelle del precedente God of War Grazie Ovviamente qualcuna se La troviamo di passaggio la facciamo Come abbiamo fatto con La creatura che c'era nel deserto La metusa gigante Vabbè Comunque sto registrando queste puntate Un po' così Anche Non è che mi sono tanto ripreso Ancora un po' di giramenti Di testa Bene Pare che dopo la missione voi due andiate d'accordo Vi concedete di sperare che questa alleanza avrà un futuro Pare che abbiamo un nemico in comune Kratos Forse non accetti che il Ragnarok sia inevitabile Ma capisci bene che Odino è una minaccia Qualunque cosa ci aspetti L'unico modo di sopravvivere è collaborare Sei d'accordo? Sì Sì Quanto all'offerta di Brock Non mi fanno parlare Piesce sopportare l'idea di vivere con un paio di vecchi nemici Nessun desiderio di vendetta spietata? Non verso voi Nessuno di voi due Bene Bene Freya Freya si unisce a Kratos L'alleanza di Freya sblocca nuova attrezzatura da combattimento E un albero delle abilità unico Il suo uso di frecce sigillo e soniche apre a nuove possibilità di combattimento E con gli enigmi Benissimo Con questa nuova alleanza ora Freya può personalizzare una grande varietà di abilità e attrezzatura da combattimento Potenzia la spada di Freya in qualsiasi negozio per migliorare la sua forza in combattimento Quindi possiamo potenziare anche le sue cose Le vocazioni luniche di Freya forniscono un'aiuto essenziale in combattimento E possono essere attivate Le vocazioni luniche si ricaricano con il tempo Trove inserisce nell'equipaggiamento armature di S per modificare l'aspetto di Freya Freya ha un albero delle abilità unico che utilizza gli XP Da lei ottenuti separatamente durante i combattimenti e le missioni Sblocca, evoca, rovi Attacchi velenosi Mostre da Valkyria E altre abilità Wow Ma le possiamo già potenziare Ah ma io dovevo potenziare il leviatano dal nano Ebbè ormai Questi sono dei Freya? Sì Mettiamo qualcosa Bene Ci siamo Pertanto a casa di Sindri Quando sei pronto Ah sì sì Possiamo andare indietro A potenziare il leviatano Forse Comunque stavo dicendo Sto registrando queste ultime puntate Che non è che mi sono tanto ripreso Cioè Ovviamente sto molto meglio Attenzione Però Durante il giorno mi sento un po' stordito Magari sarà L'influenza che c'è adesso Potenziamo il leviatano Mantieni l'affilata E lei ti manterrà vivo Mettiamo questo ragazzi Manico della guarigione appesantita Ok Della meta e caos Le possiamo potenziare pure Ti devi ancora dire Chi ha creato questi affari Eh Se sapessi Eh Noi Adesso mettiamo uno di questi Mettiamo questo dai Mettiamo Questo Niente Rimborsi Va bene così ragazzi Ritorniamo da Freya Che ci aspetta Guardate dov'è Andiamo dai A casa di Sintri Che ci aspetta Guarda Laggiù Cosa c'è Questa serratura è diversa Per usare lo scalpello Ti servirà un incantesimo Ah Quindi adesso possiamo aprire queste porte Bruna Avanti Incidi la lettera Suona È un incantesimo Ora lo recito Su No Gli elfi Lì da Freya Parlavano di una porta come questa Ad Alphine Plateravano di un santuario Degli elfi chiari Oltre le terre aride Andiamo Ad Alphine Aspetta Ma è Una missione secondaria questa Vabbè ragazzi Sicuramente Dobbiamo andare qui No Sì Non credo che andiamo Con la missione secondaria Beh possiamo decidere al passaggio Possiamo arrivarci in barca Se eliminiamo quei rovi Ricordi come fare? Sì Paspe però Così Questa è Freya Quindi è vero Tir è vivo Già Un po' malconcio Ora dorme lì In uno sgabuzzino Ma sta meglio Come l'avete trovato? Soprattutto grazie ad Atreus Che ha capito come accedere Alle profezie riservate dai giganti Ai loro membri Noi l'abbiamo saputo Solo dopo la visita di Thor e Odino A casa vostra È ancora in piedi A stento Pare che la violenza fosse solo un diversivo Per consentire a Odino Di parlare in privato con Atreus Odino ha parlato con tuo figlio Ti ha raccontato cosa si sono detti? Sì Odino l'ha invitato da Asgard Per aiutarlo a trovare le risposte Le risposte che cerca Correndo verso il destino Preoccupante Comunque Broker gli ha dato Gli ha dato la stessa freccia Quella sonica Quella che aveva Atreus Bene Se sei pronto a parlarci Il passaggio mistico è più avanti Altrimenti ho delle questioni in sospeso a Monte del Fiume Con cui puoi aiutare Oppure cerchiamo il santuario elfico nel deserto di Alfheim Per continuare l'esplorazione Dobbiamo rimuovere quel tronco dal fiume Sì Ma no Lo facciamo dopo Che cos'è? Lo stemma di Schirnir Scaltro Mammino di quanto pensassi Non ho la testa però adesso A fare le missioni secondarie Qui c'è un'altra cosa di guardia Andiamo a casa di Sintri Guardate quante missioni secondarie che ci sono Bene fratello Prima che tu lo riveda Vogliamo discutere un approccio Mi dirà dove è stato Ecco il mio approccio Ah la classica diplomazia spartana Aspetta Hai detto che Odino l'ha invitato ad Asgard E che poi è scomparso per due giorni Già Ma il giovane ha il buon senso di non Non sottovalutare la forza di persuasione di Odino Ha riempito di bugie la mente di mio figlio E se volesse fare lo stesso con il tuo? Probabile È probabile E di a quel roditore orbo Che è in debito Mangiami questo paio di noci Bene guarda un po' Dietro che ce l'abbiate fatta Vostra divinità reale Ho messo la tua magia di sigillo Sull'arco dello stronzetto Poi lui e Sindri si sono messi a discutere Non so bene chi stesse urlando a chi Ma immagino che se la siano cercata entrambi Andiamo dai Bene su forza Ehi tir Un castello in quantità si è vuoto Aspetta vediamo Ah si si Quello che abbiamo preso Fa come se fossi a casa tua e piazza Tilly Nella sottospecie di studio di Sindri Sicuro che sia d'accordo? D'accordo? Sarà estasiato Ormai questo è un posto di classe Incredibile Non avrei mai pensato di avere il piacere di rivederti Frigg Non chiamarmi così È da tempo che non sono più quella persona Ma anch'io sono felice di vederti Ho ottenuto il peggio a lungo Devi aver patito l'inferno Nulla di simile a ciò che hai patito tu Freya Sono molto, molto dispiaciuto per ciò che è successo a Baldur L'ultima volta che l'ho visto era solo un ragazzo So quanto tenevi a lui Sì E rinunciare così alla vendetta È davvero una grande ispirazione per chi di noi crede nella pace Questi regni conosceranno la pace solo dopo che Odino sarà morto È così Allora non sei qui per impedire il Ragnarok Sei qui per causarlo Voglio impedire a Odino di fare ad altri ciò che ha fatto a noi Deduco di averti turbata Perdonami La diplomazia per me è solo un ricordo ormai Allora ragazzi Sento parlare Senza nessuno a guardarti lo spazio Siamo una squadra Tra me non esistono segreti Farmi come mio padre Sa che parte stai? Da che parte? Non lo so E che significa stare dalla tua parte in questo momento? Come fatti a sapere che non fuggirai ad H? Se lo facessi almeno andrei dove posso fare qualcosa Eh sta litigando con Sindri? Sì Provaci tu a farlo ragionare Io non ci riesco Ah sei tornato Ora vuoi rispondermi? Riguardo cosa? Dove sei andato? Chi hai visto? Odino? Cosa? È questo che pensi? Vuoi negarlo? Rispondimi! Sei andato ad Asgard? No Certo che no E anche se fosse? È il mio futuro La mia vita Tu sei mio figlio E perché non ti fidi di me? Se vuoi che mi fidi Allora dimmi la verità La verità è che ti comporti da stronzo Ragazzo Non lo convincerai con questi modi Non ha nessuna fiducia in me Va bene se lui ha dei segreti E anche la mamma Non va bene I suoi segreti gravano su di noi Ah è così? Non credi più nemmeno in lei ora? Non si tratta di tua madre Tu non dici altro che bugie E chissà da chi ho imparato Adesso basta Da quando è che prendi sempre le sue difese? Da quando è l'unico a dire cose sensate Senti Stavo solo pensando di andare da Odino Ma era per una buona ragione Non c'è nessuna ragione per andare da Odino Lui ti uffoscherebbe la mente Ma l'avrei fatto per noi Per impedire che capiti qualcosa di brutto Qualcosa di brutto è già capitato Guarda me O Freya O Tyr È stato Odino a farci questo Che avete tutti quanti da sbraitare all'improvviso? Atreus vuole andare ad Asgard Asgard? Ha battuto la testa per caso? Bravi Siete tutti contro di me ora Tu devi scegliere chi vuoi essere Uno che mente e mi nasconde le cose O sei mio figlio Scegliere? Io non ho mai potuto scegliere Lasciami in pace Ascolta Lasciami andare Ascolta Lasciami un certo Ma che cazzo Atreus Sono Sintri Cerca di mantenere il controllo Ma che cavolo Forza Ragazzo Ma dove è andata a finire ora? Fantastico Eh vabbè C'è se è buccalato a sua balla Già Casa Non c'è casa Devo trovare un riparo Sì assolutamente Ma dove la trovi un riparo qui? Senza la bossola Eh vabbè E' in questi Qui la situazione è peggiorata Almeno qui c'è qualcuno che non vuole uccidermi Ah no Vabbè Penso che suo padre adesso Lo cercherà Mi basta Un posto caldo Poi Penserò a dove andare Trovo un riparo Che è quello? Non promette bene Cosa? Che cosa? Gli spettri deviano le frecce croniche Che roba è questa? Tipo uno spettro Ecco me lo accedo Ecco me lo accedo Cosa è? Attenzione. È qui. Ah, con questo. Le cose runiche. Quindi queste cose runiche sono degli spettri, allora. Ah, però lui parla con gli animali. Cosa c'è qui? Prima pensa che sia stato Duskard. Poi che menta. Eh. Voglio salvarti la vita, brutto idiota! Un altro spettro c'è. Sì, perché non glielo può dire onestamente che ha visto, cioè che è andata a Jotenaim, ha visto il Bosco di Ferro, anche Boda. Non glielo può dire. La verità sui giganti. Ah, non era uno spettro, non era una cosa runica forse. Cioè, a chi l'ho lanciato? Ma quello è morto, quello con lo scudo. Ce n'è un altro qui. Qualcuno è ancora. Chiappa! Oh! Attenzione! Ok. Qua ce n'è uno. Ok. Perfetto. Perfetto. E' probabilmente qui. Ok. 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 ok trovo un riparo ma poi dove posso andare tu ti sei ribellato si ok se vado ad asgard seguo la profezia in cui mio padre muore ma se rimango chiuso in casa non potrò fare nulla per impedirlo si immagino che ad asgard potrò almeno tenere d'occhio dino fare la spia scoprire il suo piano assumere il controllo non so atreus se sia una buona idea mi teme che suo padre muore il discorso ma che dico non posso andare ad asgard quelle sono foglie rosse la casa di frey la casa di frey ah ah se vabbè no non puoi rifugiarti lì a treos che odino sa quel posto lo conosce oh no ma che è morta la taftaruga ciao 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 ti prego ciao 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 dovrai alzarti per farmi entrare in casa ce la puoi fare forza giorni devi farlo per forza io non posso aiutarti se tu non Hamley Hamley bene bravo ma poi rimaneva incastrato lì che casino lo so bello lo so è freddo eh sì meglio chiudere la finestra prima di curiosare e chiudiamo dai fraia non si prende cura di te già preferisce inseguirci dai riscaldati un po' da questo casino si può ricavare un fuoco oh non ha capito niente wow è bellissimo che adesso è con noi non ho mai visto una cosa del genere da queste parti non ho mai dalla sua casa di vanheim deve mancarle molto ok bello ok dai riscaldati un po' è di di baldur ah mi chiedo come mio padre abbia ottenuto il suo perdono un'armatura da valchiria si abbina alle ali sul muro da una sua amica chissà che le è successo chissà e quindi vuoi dormire è qui Atreus assurdo che non sia tornata a controllare la casa a controllare te sì non è una scusa prego E ora dove vado? Non posso restare Non posso lasciar morire mio padre Deve esserci qualcosa che posso fare Lo scopriremo Scommessa caudino Non temere amico Credo sia qui per me Me la caverò Almeno credo Ok Sono pronto Portami da lui Mi stanno portando da Uteno Sì Odino Dovevo imparare a nuotare Prima che Midgard gelasse C'è nessuno? Segui il colpo di Odino Odino Eh ma lo seguiremo Questa è Asgard Ehi aspetta Ma seguiamo la Tess Che ancora siamo a 40 minuti Qualunque posto sia Aspetta È stupendo Qui il Fimbulwinter non c'è Seguiamo un attimo Questo colpo E poi vediamo il video Il muro È proprio Asgard Aspettami Arrivo Se siamo ad Asgard ragazzi Eh ma qui ci sono un po' di Grim Non si possono evitare Non mi sembri buona Eh vabbè Torpa Uta Ehi Odino Hai detto che ero il benvenuto In effetti Non mi pare che siamo A proprio il benvenuto Non mi pare che sono Ok È stupendo qui Del Fimbulwwinter Nemmeno l'ombra Eh sì Vabbè in teoria Neanche Nel legno dei nani c'era Meglio proseguire verso il muro Lì c'era più che altro I geyser C'erano Infatti io li volevo proprio evitare Che ancora ce n'è Ancora ce n'è Sto giocando Sto giocando con il volume Delle cuffie basso Proprio Perché mi dà fastidio In questo momento anche Il volume alto Ok allora Ok allora Ancora ce n'è Ok Ok Dovevamo distruggere quel nido La specie di nido Orva Uta Morto Beh Credo sia la cosa più folle Che abbia mai fatto Ma se serva a cambiare Il destino di mio padre Ne dubito Atreos Non so Che dirò Audino Ciao Voglio essere tuo Apprendista Suppongo Ma non significa Che ora sono un tuo Servitore Non nel senso Predetto da qualche profezia Questi che sono Questa è più forte Oh Forse dall'altra parte Del muro è più sicuro Un momento Come supero il muro Ora vediamo Atreos La storia di Mimir Su Rimthur Non menzionava nulla Se il figlio del muratore Ha inserito una falla L'ha detto solo a Freya Potevo chiederglielo Ma aspetta Perché Freya Era a casa Si è trasferita da noi No Calma Concentrati Loki Ecco Atreos Non te lo sei chiesto Te lo stai chiedendo adesso Quindi non l'ha capita ancora che Ha accettato il perdono Di suo padre Questi non si possono distruggere Ma le abbiamo anche noi Adesso queste regge Boh vabbè raga Ci vuole fuoco Ci vuole fuoco E noi non l'abbiamo Infatti Forse posso usare la magia di sigillo Sul mio arco Brock diceva Ah si 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 Se solo riuscissi a diffondere le fiamme Fino al rovo Si Ecco fatto Però quella di là sotto Non lo posso fare No vabbè Lasciamo stare Vabbè dai Aspetta Rumori di persone Un villaggio Chi è questo? Oh Sto cercando di orientarmi Beh non c'è Niente da vedere qui Tranne un muro C'è una porta dove entrare? No A meno che tu non sia un dio Aesir Ma questo lo sapresti se lo fossi Io? No Io vengo da Midgard Cosa? Ma dai Pure io sono Schjolder Loki Aspetta Voi venite Tutti da Midgard? Sì Il Padre di tutti Ci ha salvato dalla desolazione Ci ha dato un posto dove vivere Ma Noi lì non c'entriamo Non si entra se non si conosce la magia E tu Tu non conosci la magia Vero? Un pochino Sì Eh cavolo Attraversi i muri Non ancora Ah Non potrei Scalarlo e basta Quello là Senza attrezzatura No Non temi di morire Beh Certo Insomma Guarda quanto è alto Beh Ma Odino mi aspetta Ah quindi Odino si trova là sopra Aspetta Conosci il padre di tutti Io Sono un suo apprendista Oh cavolo Cosa ti sta insegnando? Non lo so Quanti allievi ci sono? Non lo so Quanto ti trattieni? Non lo sai Ok Adesso vado a scalare quel muro Questa Non me la perdo Ti aiuto? Ah lui viene con noi Grazie mille Ma devo farlo da solo Oh Non voglio mica scalare con te Devo la mia vita a Odino Ma non gli devo la mia morte Con questo non dico che cadrai Dimentica le mie parole Eh Non credo sia una buona idea Comunque Quello era Ugin Ti guida Ugin Chi? Il corvo di Odino Lo conosci? Ugin e Munin? Un'ottima guida Ma Non credo che sia molto esperto di scalare Ben detto Cioè ragazzi Adesso sta veramente andando da Odino Chissà cosa accadrà Se lo ingannerà veramente Oppure Cioè Vuole essere il suo apprendista Anche per ingannarlo Però Sempre se Odino si fa ingannare Non so Lo scopriamo nel prossimo video Un saluto a tutti Anche 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 Grazie a tutti